Voglio parlarvi di questo libro che troverete in edicola e ha legato a l'izza psicosomatica, si chiama La formula della felicità, è un libro che ha questo sottotitolo, La gioia di vivere non dipende dagli altri, molte volte le persone mi fermano e attribuiscono la loro infelicità, la loro tristezza, la vita che non va bene, le cose che non funzionano a un partner sbagliato, a un genitore che in qualche modo ha inciso sulla loro affettività, insomma uno sguardo esterno che ci fa credere che la nostra felicità dipenda da cosa succede intorno a noi. E nei gruppi del giovedì molti mi dicono sempre la stessa frase, quando più persone ripetono la stessa frase vuol dire che è una frase che hanno assorbito dal terreno, non è loro, e la frase è più o meno questa, come si fa a star bene quando intorno a te ci sono persone che non capiscono, che non ti capiscono, ma questa è un'idea molto sbagliata della benessere. l'altra mattina vedevo una trasmissione dove vedevo dei buonisti, assessori che portano i vecchi a fare le gite, li vanno a cocolare e questo assessore diceva, sa perché noi dobbiamo far tutto, purché i vecchi non rimangano soli, ma voi sapete cos'è un vecchio, sapete cos'è la solitudine? Guardate, se uno dovesse dirmi il segreto della felicità, la formula della felicità è prima di tutto, prima di tutto, più di tutto ascoltare il proprio silenzio interiore. la seconda cosa, più importante di tutto, ancora più importante di tutto, è ricordarsi che come hai un volto unico, tu sei unico e c'è un modo unico di produrre la felicità, se la felicità che vivi tu assomiglia a quella di un altro, non è la felicità, se la felicità è permanente, non è la felicità, se la felicità la te l'ha indotta qualcosa o qualcuno, non è la felicità, non c'è stato più spontaneo della felicità. L'essenza del taoismo di cui mi sono occupato parecchio è che il tao è senza nome, prova a immaginarti di essere una persona senza nome, senza storia, senza futuro e senza passato. Totalmente immerso in linea le cose come sono, si racconta che il più grande saggio che ha avuto l'ebraismo, Taim de Sholkov, raggiungesse il punto più alto dell'illuminazione semplicemente lavando e rilavando i piatti, ma senza volgere lo sguardo altrove. Il pensiero zen, che è molto simile al pensiero cassidico di una corrente ebraica, ritiene che non bisogna mai avere nessun secondo pensiero, quando fai una cosa fai quella, solo quella e basta. Sii immerso nelle azioni minimi, nelle azioni qualsiasi che fai, stai scrivendo, allora scrivi, stai mangiando, allora mangia, stai bevendo, allora bevi. la saggezza dell'essere nelle cose come sono, allora il cervello in qualche modo perde l'identità che ha acquisito, cioè il personaggio, l'illusione che crede di essere, smette di imitare gli altri, smette di voler raggiungere obiettivi che non lo riguardano e sprofonda dentro se stesso, la felicità è sprofondare dentro se stessi, la felicità dell'estate è quando il sole raggiunge il punto più alto, la forza massima del sole, la felicità nella decadenza, la felicità nella tristezza dell'inverno, la felicità nell'esplosione del germoglio della primavera, quante felicità ci abitano? certo che se nella tua mente c'è la convinzione che devi rimettere a posto i rapporti, che non ti hanno amato abbastanza, che la tua storia è stata sbagliata, una storia vale l'altra, gli uomini dicono alle donne che sono speciali per portare a letto, non perché lo pensano, tutti siamo speciali, tutti, tutti siamo differenti, tutti abbiamo un volto unico, inutile fissarsi sui luoghi comuni e la cosa forse più importante ancora è quella di rispettare, perché la felicità sgorghi, anche i nostri lati cosiddetti sgradevoli, dottore io l'altra sera, mi diceva una mia paziente, dottore io l'altra sera ho preso la tazza del caffè e l'ho tirata contro il muro sporcando tutto, era arrabbiata, poi mi sono detta, ma che razza di persona sei, come fai a essere così? ecco, se vogliamo la felicità, se vogliamo che venga a trovarci, dobbiamo imparare a dire io sono quella che scaglie la tazza di caffè e sono quella che accarezza il mio amico con grande dolcezza, sono l'una e l'altra, non l'una o l'altra, noi passiamo la vita a debellare il nostro lato che mente, il nostro lato aggressivo, il nostro lato pauroso, noi passiamo la vita a combattere contro qualcosa di noi, questo combattere ci rende fragili, insicuri, tristi, paurosi, la felicità viene dall'accettazione della contraddizione, del dirsi sono quella che scaglie la tazza di caffè e sono quella che accarezza il suo compagno, sono quella dolce e sono quella aggressiva, allora quando io non ho più un parere da dare su di me, allora la felicità può sgorgare come un'energia, come un fiume, spesso la vera diga che contiene l'energia felice siamo noi, guarda oggi sono felice non solo motivo, questa è una buona felicità, la stessa felicità che si inserisce negli occhi dei bambini quando giocano, perché la felicità possa sgorgare bisogna cambiare personaggio, un solo personaggio vuole dire una unilateralità, quindi un'aridità, quando una persona vi dice io l'ho sempre pensata così oppure quando vi dice queste sono le mie certezze, questo è il mio modo di vedere il mondo, quando si dichiara buono è una persona che non potrà mai essere felice, perché è recita, come quell'assessore che faceva compagnia ai vecchi, non perché le facesse piacere, ma perché riteneva che così i vecchi non soffrissero, la felicità viene prima di tutto, più di tutto dalla solitudine, bisogna smettere con questa stupidaggine che le persone sole sono persone infelici, quando si dice cosa fai lì solo come un cane, ma i cani sanno stare da soli, sono gli uomini che non sanno stare da soli, la solitudine inizialmente può farti paura, ma quando sei immerso nelle azioni e sei solo, quella è la formula principale della felicità, non si impara la felicità, perché è un'onda che viene dal mare dell'anima, però si impara a non contrastarla e ciò che la contrasta di più sono i luoghi comuni, il fatto che abbiamo assorbito il pensiero degli altri, perché la felicità è soprattutto più di tutto un'energia sempre nuova, se sei pronto al nuovo la felicità arriva spontaneamente, spesso è preceduta da emozioni che non ci piacciono, come la paura, come la solitudine, come la tristezza, come l'ansia, la mia paziente mi ha detto, dottore mi è venuto un attacco di invidia tremendo nei confronti della mia migliore amica, tremendo perché lei andava in un posto che era il mio sogno, con un uomo che io avevo desiderato, l'ho invidiata in un modo pazzesco e mi sono detta più volte, mi fai schifo perché è così invidiosa, mi fai schifo. Poi sono venute in mente le mie parole, ma che vita sarebbe senza l'invidia senza un po' di schifo e senza lo schifo? Che vita sarebbe se fossi perfetto? E come si voleva questa persona? Senza emozioni, senza sentimenti? Senza gelosia, senza invidia? Questo modo di perfezione è l'antidoto più potente alla felicità. Un giorno mi ha detto dottore, sa cosa mi è successo? Mi sono detta sì sì, io sono invidioso, non posso farci niente. Ho lasciato l'invidia a depositarsi dentro di me, dopo un po' mi è arrivato un attacco di felicità. La gioia di sapere che non devo escludere nessun lato di me, la gioia di sapere che sono questo e quello. Ecco, questi sono i cardini della felicità. Spero il libro vi piaccia, buona lettura, buon agosto a tutti.